C'è una Roma al Teatro Cassio fino al 6 di gennaio con grande successo il musical Caino e Abele di Tony Cucchiara e la compagnia al gran completo questa mattina è qui a Mattina in Famiglia, allora gustiamoci l'inizio dello spettacolo. E con noi i protagonisti Annalisa Cucchiara, Silvia Specchio, Luca Notari, Runa Barduani, Giacomo Buccheri, Giulia Di Domenico, Martina Cucchiara, Enrico Sortino e la compagnia di Caino e Abele. Evviva! In principio la luce fu gradita al Signore che nei giorni seguenti, in buone giornate, fece il mare e le stelle, la luna e il sole, gli animali e le piante, l'inverno e l'estate. In principio la luce fu gradita al Signore che nei giorni seguenti, in buone giornate, fece il mare e le stelle, la luna e il sole, gli animali e le piante, l'inverno e l'estate. In fine lui è l'uola, lui è l'uola, lui è l'uola, l'uola, l'uola. Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, abbiate dominio sui pesci del mare, Gli uccelli del cielo, sul bestiale, su tutte le cose della terra. Madame e Elena camminano muti, senza vergogna, sono così come Dio li ha voluti, senza peccato, finché un giorno la cantazione è... E' l'uola, l'uola, l'uola e l'uola. E'o... S sorella. Grazie a tutti. 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 Natale in famiglia.